Oggi su Facebook Francesca Gugiatti torna sulla vicenda di cui è stata testimone con alcune precisazioni. Ciò che ho sentito non è stato detto davanti a personale sanitario, ribadisce. Di conseguenza è logico che i dipendenti in servizio al pronto soccorso smentiscano che ci siano stati commenti del genere. Non erano presenti. Non ho mai affermato che la mia amata Sondrio sia una città razzista. Ho semplicemente segnalato e condannato l'episodio e le singole persone che hanno fatto determinate affermazioni. Non ho mai voluto strumentalizzare l'accaduto. Perfino durante il mio intervento tenutosi in piazza Campello a Sondrio ho affermato che non centra nulla la politica, la destra, la sinistra. Centra l'umanità. Io ho parlato da comune cittadina sensibile che quando vede o sente determinate cose non tace. Non da consigliera comunale, né da maestra, né da sardina o da una di sinistra, prosegue la 24enne. Sorpresa dalla forte incidenza mediatica che l'episodio ha avuto. Ho ritenuto giusto, conclude, segnalare e condannare episodi del genere mettendoci la faccia.